Ciao a tutti, sono sempre il Greg e questo è il mio canale in genere horror. Questa volta di un film si parla, sì, però di un film d'animazione, The Spine of Night. È un fantasy horror, è un film a tinte forti, tanto sangue, tanto fantasy, tanta avventura, tanti combattimenti, diretto da Philip Gelad e Morgan Galen King, uno dei registi che ha voluto affrontare questo progetto e questa avventura durata anni. Perché? Perché è stato un progetto molto coraggioso, è un progetto molto coraggioso. Il film è stato realizzato utilizzando la tecnica del rotoscopio, utilizzando il rotoscopio. Questa tecnica qui, sperimentata addirittura nel 1915 nell'animazione e poi utilizzata nei decenni successivi in grande quantità, poi nei decenni successivi dalle produzioni Disney, è una tecnica che consente di sostanzialmente ricalcare su pellicola le scene che vengono filmate con attori veri in carne ed ossa. Quindi si può letteralmente filmare il film, girare il film con attori veri e poi, grazie all'utilizzo di diversi disegnatori, mettersi al lavoro e ricalcare, sostanzialmente ricalcare su pellicola quello che è stato fatto con gli attori veri. Nesce un risultato forte di impatto e un risultato sostanzialmente molto, molto realistico, perché il movimento della bocca durante i dialoghi, il movimento delle persone, il modo in cui camminano, ma anche il modo in cui combattono è molto vicino, anzi è sostanzialmente un reale come fosse un film con attori veri. Tutto questo ti immerge moltissimo in un'atmosfera che il film tra l'altro ha già di suo a livello di scrittura, a livello di regia, a livello di montaggio, perché è un film molto forte con personaggi che si intrecciano con combattimenti molto sanguinosi, scene di nudo senza censura. È una storia di una strega che ha viaggiato molto e un guardiano, si incontrano, parlano e parlano degli accadimenti che ha portato questa donna a questo punto, del significato di un fiore della coscienza all'interno del film, si parla di magia e appunto di combattimenti. È un fantasy a tinte horror con delle scene molto forti, come dicevo, ma è un film anche di impatto visivo molto interessante e per chi ama un certo tipo di sperimentazione, per chi ama un certo tipo anche di animazione, è anche nostalgica perché gli stessi autori sono nostalgici degli anni dei personaggi, dei soggetti degli anni 70-80 e hanno voluto utilizzare questa vecchia tecnica per ritornare un po', per non abbandonarsi a quella più semplice, tra virgolette più semplice, nel senso che è meno dispendiosa per l'utilizzo di meno persone, che è quella della computer grafica, comunque della tecnologia digitale del giorno d'oggi. Loro senza avere alle spalle una grossa produzione, quindi un grosso numero di persone al disegno, hanno dovuto farlo per gran parte da soli, quindi un progetto lungo parecchi anni e che però sono stati ovviamente molto orgogliosi di aver culminato, di aver ultimato e il risultato è un risultato di impatto visivo, di immersione in questa avventura. Non è un film per tutti, è un film per le persone a cui piace, certo il film di animazione, chiaro con questa tecnica tra l'altro, che però è molto molto interessante, ti porta dentro e ovviamente per gli appassionati del fantasy, che è sì a tinte horror, ma è pur sempre un fantasy, quindi bisogna anche avere una grossa passione per un certo tipo di racconti che potrebbe risultare a volte un po' pesante, ma questa pesantezza è la specificità, è il ritmo stesso di questo tipo di racconti. A me è piaciuto il tentativo, la sperimentazione e mi limito a questo tipo di giudizio, non oso andare oltre e andare ad analizzare quello che è un lavoro che è mastodontico da questo punto di vista, per i tempi e per la difficoltà della realizzazione. Quindi un grosso merito al duo che l'ha realizzato e che dire, nonostante non sia un film per tutti, è un film che però quelli che lo vedranno lo apprezzeranno proprio per questo tipo di sperimentazione cinematografica. Sperimentazione non perché non sia mai stata fatta, attenzione, ma perché è fatta comunque da un duo di registi e sperimentazione per il tipo di animazione, per il tipo di prodotto che si è voluto fare al giorno d'oggi, quando oggi si usano tecniche ben più moderne e da questo punto di vista qua più, diciamo, non dico più semplici, ma che risolvono molti problemi che il ricalcare una pellicola e i tempi che ne conseguono, potete ben pensare, è molto più pesante. Quindi consigliato sì, consigliato perché sostanzialmente è un film horror, consigliato perché è un film di animazione molto interessante e consigliato perché questo duo ha fatto un gran prelavoro quasi sostanzialmente da soli.